Sei arrivato al limite estremo di farti disprezzare dalle tue stesse figlie che non vogliono più vederti per dimenticare il trauma. Sei una, sei un'escrescenza deforme, sei un'appendice dolorosa che tutte noi vogliamo dimenticare. Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. E no, ti sbagli Polizio, l'inferno per te deve ancora venire.